Allora mister, questa è una sconfitta che brucia, ci siamo, come si suol dire, complicati la vita con questa sconfitta oggi, con la diretta avversaria per la retrocessione. Sì, oggi non c'è niente da rincriminare dal Calanzaro Lido perché ce l'ha messa tutta, merito da mente hanno vinto, noi purtroppo dopo il Terina non siamo noi stessi, c'è nervosismo, non ci aiutiamo più in campo, ognuno vuole fare la sua, tutti si pensano che sono Maradona e il calcio purtroppo se non possono giocare in prima categoria a calcio non possono giocare in nessuna parte e di conseguenza adesso non lo so come la prenderà il Presidente, vediamo un attimino, non credo che andremo più avanti, questo è poco ma sicuro. Anche perché il calendario vi penalizza da questo punto di vista perché ci sono due sole partite in casa e tre fuori. Sì, adesso è proprio complicato al massimo, quindi non credo che lamentabilmente noi continuiamo a allenarci e tutto quanto, ma non possiamo sperare del play-out, del riacganciare in questo caso il Chiaravalle che sicuramente avrà delle partite complicate, purtroppo è la verità. Abbiamo sbagliato, i ragazzi sono inesperti, ripeto abbiamo subito dopo il Terina una squadra che si stava riprendendo molto bene, oggi diciamo caput. Allora abbiamo mister Tarantino del Catanzaro Lido, quindi arrivato a questo punto con questa classifica questi tre punti, questa vittoria di oggi diventano davvero preziosi? Sì, sicuramente sapevamo di venire assoverato cercando di vincere, sapevamo che loro comunque avrebbero dato tutto, era una partita molto difficile, infatti il risultato parla chiaro perché teoricamente abbiamo vinto soltanto 1-0, sicuramente questi tre punti ci danno un po' di respiro ma la situazione per la salvezza è ancora molto lontana, abbiamo probabilmente un calendario favorevole, abbiamo delle partite decisive in casa, però sarà difficile, però ci proviamo insomma. Sì, sì, siete avvantaggiati dicevo io, perché voi avete tre partite in casa e due fuori casa, quindi al limite si può aspirare negli eventuali play-out. Sì, abbiamo attualmente, distiamo 14 punti dalla quinta ultima, c'è questa regola che praticamente, c'è questo distacco di 10 punti che è quello che teoricamente ci potrebbe fermare, però speriamo bene nel proseguo delle prossime partite tenendo sempre un occhio comunque assolverato perché questa non è una squadra, anche se devono fare solo due partite in casa e tre fuori, però distiamo solo 5 punti, quindi ci interessa anche vincere soprattutto per non arrivare ultimi e poi sperare che qualche piccolo passo falso della quarta ultima e della quinta ultima che ci permetta poi di poter giocare almeno i play-out.